ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti sullele king tv quest'oggi vi mostro il mio album calciatori 2018 2019 completo al 93 per cento mancano all'incirca ragazzi all'incirca 56 figurine poco più poco meno adesso non ricordo preciso il numero figurine mancanti ma siamo arrivati comunque sia al 93 per cento dell'album completo continuano gli schiambi stanno arrivando altre buste vedrete spacchettamenti di buste derivanti schiambi vedrete ce lo mi manca di questa raccolta fino alla fine io punto a finirla per i primi di giugno perché i primi di giugno escono l'ultimi aggiornamenti del film del campionato che io prenderò attaccati quelli ragazzi farò l'ordine alla panini per le figurine mancanti quindi poi lo porteremo al cento per cento e vedremo l'ultimo video finale che chiude tutta questa raccolta per quest'anno e la finiamo con questa raccolta che mi dispiace ragazzi mi ci piange il cuore però è ormai è arrivata alla fine ma si fanno anche gli album per finirli quindi è giusto così io vi ricordo intanto di lasciare un bel like a questo video taglie questi pollicioni e scrivere sotto un commento perché scrivere un commento è sempre gratis e poi a me mi fa tanto piacere lasciarvi un bel coricione sotto nei vostri commenti ragazzi è veramente un piacere per me ringraziarvi di quello che state facendo per questo canale perché il vostro supporto i vostri commenti i vostri like le vostre visualizzazioni stanno facendo crescere sempre più questo canale stiamo ormai arrivando agli 8.000 è facile anche che l'abbiamo superati quanto c'era questo video di 8.000 iscritti lo spero sinceramente allora ragazzi iniziamo subito a mostrarvi l'album allora la prima parte l'abbiamo finita con tutte le coppe e lo stemma della serie a team qui sotto ci va la figurina che non so se farò ma ho un pochettino insomma l'idea di poterla fare che è la figurina con la mia faccia adesso vedremo se la farò o no fatemi sapere sotto nei commenti se la volete vedere anzi se volete che magari faccio qualcuna in più magari la regalo in qualche contest intanto andiamo avanti l'atalanta che è la prima squadra che troviamo della serie a mi manca soltanto ilicic la seconda parte completa del bologna mi manca lo scudetto e la numero 43 e poi mi manca il rupero del cagliari mi manca il sardegna arena e la 75 la 76 della squadra cagliaritana la seconda parte ce l'abbiamo tutta del chievo verona mi manca la 90 che il secondo portiere del chievo dell'empoli mi manca la 117 che il portiere la 139 e la 140 della fiorentina qui comincia a mancare un po più di figurine perché ne mancano 5 da 148 158 161 164 la seconda parte l'abbiamo completata del frosinone mi mancano 4 figurine che sono queste quattro qui tra cui lo stadio benito stirpe e lo scudetto del frosinone frosinone che è retrocesso come sapete in serie b insieme con il chievo matematicamente poi del genoa mi manca la 223 dell'inter mi manca il giuseppe meazza lo stadio e lo scudetto e basta l'inter mancano soltanto con le due figurine della juventus mi manca benatia ragazzi benatia mi manca per il resto dovrei averla completata tutta anche la seconda parte sì mi manca soltanto benatia per completare la juventus qualcuno me l'ha chiesto anche nei commenti se l'avevo completata o no mi manca benatia della lazio manca la 289 del milan la squadra ce l'abbiamo completa questa pagina e invece nella parte dietro mi manca la figurina speciale difesa azzurra del napoli con il napoli abbiamo recuperato era una delle squadre di cui mi mancavano più più figurine adesso alla fiorentina mi mancano 5 comunque mi manca la 343 la 347 il 350 che lo scudetto e la 353 per completare il napoli e in più manca la figurina speciale di mare che am sic del parma del parma c'è mancano tre figurine sono 373 la 387 la 391 che gervigno eccolo gervigno della roma mi manca lo stadio olimpico la 405 e basta perché poi la seconda parte ce l'ho tutta della samp abbiamo tutta la prima pagina e anche tutta la seconda quindi la samp ce l'abbiamo completa al 100% del sassuolo mi manca la 453 e il mapei stadium mapei stadium che me l'avevano anche mandato ragazzi però è successa una cosa stranissima si è aperta malissimo la figurina si è rovinata non l'ho attaccata sull'album poi la seconda parte ce l'abbiamo tutta della spalla mi mancano due figurine qui ho completato la squadra che sono 494 e 496 e mi manca il mister ecco qui del toro del torino del torino manca sulla 527 e basta ragazzi che poi ce l'ho completo dell'utinese ma anche il dacia arena quindi lo stadio e a questo punto andiamo avanti il film del campionato come sapete le prime cinque figurine che sono c1 c2 c3 c4 c5 si trovano nei pacchetti a me manca la c1 e la c3 che non ho trovato assolutamente ragazzi nei pacchetti è strano perché del solito ne trovo sempre tante poi qui c'è dalla c21 alla c25 che uscirà l'otto gennaio con la gazzetta dello sport con sport week poi c'è il calcio mercato che ce l'abbiamo tutto completo ragazzi poi abbiamo fatto anche il video su queste figure del calcio mercato non so quanti di voi l'hanno visto o no comunque fatemolo sapere se l'avete visto altrimenti ve lo ripropongo come post se volete poi abbiamo la serie b l'ascoli ce l'ho completa qui c'è lo stemma serie b il benevento è completo il brescia mi manca soltanto la 585 il carpi è completo il cittadella mi manca la formazione la squadra il cosenza è completo la cremonese e manca la 617 il crudone manca la 625 nella severona è completo del lecce che è stato promosso in serie a mi manca la 644 del livorno mi manca lo scudetto del livorno che poi abbinato a quello del padova e la squadra del livorno poi il palermo cielo completo palermo che poi sapete cosa è successo con la retrocessione del palermo il perugia cielo completo il pescara cielo completo la salernitana cielo completa lo spezia mi manca la 690 97 del venezia mi manca la 703 per completare tutta la squadra poi calcio femminile ragazzi che manca la squadra dell'ellas verona col 712 invece per quanto riguarda le nazionali qui abbiamo la nazionale di calcio femminile che ce l'ho completa mi manca non mi manca niente perché ho completato anche l'under 20 italiana di calcio maschile e poi la seconda parte quindi ci sono più figurine anche questo poi è tutto stampato e questa è tutta la serie c ragazzi voi sapete che sui vecchi album c'erano anche gli squetti della serie c però diciamo che con questi da serci si andava a finire allo stesso numero delle figurine di questo album quindi secondo me è giusto così non mettere gli scudetti della serie c e poi qui c'è tutta la parte delle carriere di calciatori che come sapete io preferisco che fossero state messe vicino alla figurina di ogni giocatore e non così all'ultimo però questo è una cosa mia personale ragazzi io a questo punto vi saluto spero che questo video vi sia piaciuto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti